Sottotitoli e doppiaggio, Carlo Fanni Oggi parleremo di uno schema piramidale. Eddie Alexandre è colpevole per frode agli investitori. Questo schema Ponzi, piramidale, si è verificato in gran parte in molte chiese avventiste. Titolo Direttore di piattaforma cripto e cambio valuta estera, colpevole di frode per oltre 240 milioni di dollari sugli investitori. Cito dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York. Stragrande maggioranza dei fondi recuperati. Lui è Eddie Alexandre. Gli avvocati di Miami intentano una class action da 350 milioni di dollari contro Eddie Alexandre e la chiesa avventista del settimo giorno. Sono pagine dei documenti della causa. La linea rossa mostra la corporazione della conferenza generale avventisti del settimo giorno. CGC C'è Eddie Alexandre? Questo screenshot mostra tante chiese avventiste implicate in questo schema piramidale. Alcune sono in Florida, Palm Coast e altre zone. In gran parte tra la comunità haitiana. C'è Kissimmee. C'è anche la conferenza delle chiese di New York. Tampa, conferenza avventista del Texas. Un elenco di nomi e tante altre chiese locali avventiste influenzate negativamente e implicate in questo schema piramidale. Adventistoday.org, 8 maggio 2023. Titolo Frode sugli investimenti. Eddie Alexandre è la chiesa avventista. Chiesa citata in giudizio per investimento fraudolento basato sulla fede. 20 aprile 2023. Eddie Alexandre promette una generazione di milionari. Ora vi presento l'ospite di oggi, l'Evangelista Fratello D. Questo è un fenomeno mondiale. Non si possono sottovalutare i danni arrecati alla nostra chiesa. Eddie era anziano nella chiesa avventista del settimo giorno. E anche suo padre era un pastore. Quindi apparentemente lui era affidabile. Si poteva dire, lui è un anziano, suo padre è un pastore, lui è affidabile. E per gli anziani della chiesa avventista, la gente penserà, Eddie Alexandre il ladro. Quindi lui ha potuto usare le sue connessioni per accedere a queste chiese. Lui andava a predicare in queste chiese, sul pulpito, parlando dell'amore di Gesù. E poi nel pomeriggio vendeva i suoi prodotti finanziari. Prometteva che questo suo programma era nuovo ed era segreto. Non dovremmo farci ingannare dai programmi segreti, da cose che non capiamo. Sono state imbrogliate 62.000 persone. I nostri membri più i loro conoscenti. Essi hanno garantito per Eddie. Hanno messo in gioco la loro reputazione. La gente ha investito i risparmi di una vita in questo schema piramidale. Cioè, prendi i soldi dagli investitori e crei aspettazione dicendo il valore sta aumentando del 5, 10, 20%. Ogni settimana lo invia a tutti gli investitori. La gente riceve tanti soldi. Poi prendi i soldi dei nuovi investitori per pagare i vecchi investitori, per far entrare più soldi. E la gente è testimonia di tutti i soldi che guadagna. Alcuni ricevevano centinaia di migliaia di dollari. È triste. Eddie viaggiava in varie chiese, oltre 15 conferenze. Colorado, Florida, New York, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island e Texas. È un'incredibile quantità di posti. I membri di chiesa si fidavano del pastore e delle guide perché i pastori approvavano Eddie. Che fiducia avranno in ciò che diranno i pastori? Per qualsiasi cosa? Perché credere alle dottrine della chiesa ventista se i pastori fanno questi sbagli? I pastori hanno sostenuto dei prodotti finanziari che non conoscevano e non capivano. eppure hanno mescolato le attività del sabato con investimenti secolari. Marco capitolo 11 dal verso 15 al 17 su come Gesù disapprovava queste cose. Così giunsero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete. Lo schema era criptovaluta e piattaforme di cambio, i cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio e insegnava dicendo loro non è scritto la mia casa sarà chiamata a casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Covo di ladroni. Non solo in America ma tutto il mondo penserà alla Chiesa Aventista come a un covo di ladroni. Ora vediamo il punto di vista delle conferenze. Loro non si rendevano conto di cosa stesse succedendo. Non abbiamo alcuna informazione che le conferenze, le unioni, le divisioni o la conferenza generale sapessero cosa accadesse nelle loro chiese. Ma ora c'è un rischio. La Querela sostiene che questi pastori sono agenti della conferenza e come agenti della conferenza rappresentano gli interessi della conferenza e parlano per conto della conferenza. quando un pastore presentava Eddie come un uomo d'affari e come un investimento sicuro non parlavano solo a titolo personale ma anche per conto della Chiesa Aventista mondiale. ecco perché è elencata la conferenza generale. 350 milioni. Per ora c'è la conferenza della Florida ma ci potrebbero essere tutte le conferenze delle altre chiese. questo è solo l'inizio. sia che la causa passi o no sia che si debba pagare o no sicuramente non abbiamo 350 milioni di dollari. venderemo il patrimonio l'intera Chiesa andrà in bancarotta. Ma soprattutto come possiamo evangelizzare tutte quelle chiese in cui le persone hanno perso i loro soldi? possono evangelizzare dicendo Gesù verrà presto arriva di nuovo mettiti in ordine? in queste aree la nostra reputazione è totalmente distrutta ma anche se stai in un'area diversa e qualcuno conosce questo avvenimento avremo questa etichetta non puoi testimoniare con una tale macchia sulla tua reputazione. La gente ha bisogno di chiese corrette e veritiere loro non praticavano ciò che credevano promuovevano la prosperità tutti i milionari per essere soddisfatti su questa terra ma ignorando il regno futuro hanno dato tutti i loro soldi investendoli in questo schema piramidale ottenendo rendimenti del 5 20 200 per cento a settimana tutti sanno che fisicamente è fondamentalmente impossibile ciò dimostra che hanno abbandonato la verità biblica ciò riflette la condizione dei nostri membri e delle nostre guide è triste mi dispiace per tutte le persone che sono state ingannate pregheremo per loro dobbiamo fidarci di Dio e a tenerci alle sue verità chiunque parli nelle nostre chiese deve essere adeguatamente verificato e deve essere convertito perché questo danno resterà tanti anni prima Timoteo 6 verso 6 ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci saremo di questo contenti ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione l'avidità del denaro infatti o l'amore per il denaro è la radice di tutti i mali e per averlo grandemente desiderato alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori ma tu o uomo di Dio fuggi queste cose e procaccia la giustizia la pietà la fede l'amore la pazienza e la mansuetudine combatti il buon combattimento della fede afferra la vita eterna se vuoi investire investi nell'opera di Dio e sarò chiaro ci sono molti predicatori con la loro versione dello schema piramidale state attenti amici miei sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni l'amore di Dio l'amore e di Dio di Dio annunità l'amore di Dio di Dio di Dio l'amore Grazie.